Salve, amanti del cosmo e curiosi del firmamento. Oggi affrontiamo un quesito che ha incuriosito molti. Chi regna come la stella più luminosa nel cielo notturno? Alcuni potrebbero scommettere su Venere, ma attenzione, è un pianeta. Altri potrebbero puntare sulla stella polare, ma lei è celebre per altre ragioni. Allora, chi è la vera regina della luminosità celeste? La risposta è Sirio e oggi ne esploreremo i segreti. Prima di lanciarci alla velocità della luce verso l'infinito e oltre, facciamo un patto stellare. Clicca su Iscriviti, attiva quella campanella e scendi nei commenti per dirci quale enigma celeste vorresti che esplorassimo nel prossimo episodio. In questo modo ci fornirai il carburante cosmico per creare contenuti sempre più avvincenti. Sirio, o come è conosciuta in altri contesti, Alpha Canis Majoris o Margherita, è un vero gioiello nel cielo invernale. Il suo nome, Sirio, ha origini greche e significa ardente o fiammeggiante. E non è un caso. Sirio brilla con intensità e si trova a una passeggiata cosmica da noi, a soli 8,6 anni luce di distanza. Ma aspettate, c'è un altro aspetto intrigante. A prima vista, Sirio sembra solitaria nel firmamento. Ma non lasciatevi ingannare. Ha una compagna invisibile all'occhio umano. E Sirio non è un caso isolato. Molte delle stelle che crediamo solitarie fanno in realtà parte di piccoli gruppi stellari legati dalla gravità. Nel caso di Sirio, si tratta di un sistema binario. La stella che riusciamo a vedere è Sirio A, mentre la sua meno visibile compagna è nota come Sirio B. E qui arriva la chicca. Sirio B è una nana bianca, un tipo di stella che ha esaurito il suo combustibile nucleare e si è ridotta a un nucleo denso e caldo. È così densa che un cucchiaino della sua materia peserebbe diverse tonnellate sulla Terra. Pensate a questo. Sirio B ha una massa simile a quella del Sole, ma è tutto compresso in un volume grande quanto la Terra. È come prendere il Sole e infilarlo in una pallina da golf. Ok, forse non proprio una pallina da golf, ma avete capito cosa intendo. Questo ci dice una cosa. Sirio B è densità estrema. Sirio B è come il fantasma spettrale di una stella che un tempo dominava il cielo, con una massa che era niente meno che cinque volte quella del nostro Sole. Immaginate una icona che, dopo una carriera straordinaria, decide di ritirarsi dal palcoscenico. Ecco, Sirio B ha fatto proprio così. Ha detto, è stato bello, ma ora è il momento di andare. E tutto ciò che rimane è un nucleo inerte, ma ancora affascinante. Parliamo ora della celebrità Sirio A. Questa bellezza ha una massa circa due volte quella del nostro Sole e la sua età? Beh, tenetevi forte, perché è stimata essere di poco inferiore ai 250 milioni di anni. Immaginate tutte le cose che sono successe sulla Terra in quel periodo. Sirio B ha la stessa età di Sirio A, ma qui c'è il colpo di scena. Sai come si dice? Più grande sei, meno vivi? Beh, Sirio B è la prova vivente. O forse dovrei dire la prova non così vivente. Questo ex gigante stellare ha bruciato così luminoso e così veloce che ora è solo un'ombra del suo antico splendore. Mentre Sirio A brilla come una superstar, Sirio B è come quella leggenda del rock che ha lasciato il palcoscenico ma di cui tutti parlano ancora. Sì, ha la stessa età, ma ha vissuto una vita molto più intensa e ora è in pensione, godendosi la quiete del suo nucleo inerte. Immagina un palcoscenico, siamo nel centocinquantesimo anno dopo Cristo e Claudio Tolomeo, l'astronomo che è praticamente la celebrità del mondo scientifico di allora, lascia tutti a bocca aperta. Annuncia che Sirio, la stella più luminosa del cielo, è rossa. Sì, rossa come un tappeto da gala, rossa come il vino che non manca mai nelle feste romane. E Tolomeo non è un lupo solitario in questo circolo esclusivo di estimatori delle stelle rosse. Altri grandi nomi dell'antichità, come il poeta Arato di Soli, l'oratore Marco Tullio Cicerone e il generale germanico Cesare, sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Sirio è la stella del momento e sfoggia un colore rosso ardente. Anche Orazio, il poeta che potremmo definire il cantautore della sua epoca, la definisce rubra canicula, ovvero la rossa stella del cane. Facciamo un salto fino all'ottavo secolo e un manoscritto lombardo si unisce alla conversazione. Anche lui conferma, ehi, avete notato Sirio? È rossastra come un tramonto estivo. Ora, ecco il colpo di scena. Gli astronomi di oggi sono completamente sconcertati. Secondo la scienza, una stella che cambia il suo aspetto in modo così radicale è come un elefante che improvvisamente decide di volare. Tecnicamente impossibile. Eppure, Sirio oggi brilla in blu, come se avesse deciso di rinnovare completamente il suo guardaroba. Allora, cosa sta succedendo? È un caso di identità stellare confusa? O forse Sirio è davvero la diva delle stelle, che cambia il suo stile attraverso i secoli? Una cosa è certa, questo enigma cosmico è più intrigante di un pettegolezzo da gala, e tutti sono curiosi di scoprire quale sarà il prossimo look di Sirio. Ma, aspettate, c'è un altro capitolo in questo thriller interstellare. In una remota regione del Mali incontriamo i Dogon, un popolo che sembra avere un collegamento diretto con Sirio. Nelle loro leggende tramandate oralmente per migliaia di anni conoscevano l'impensabile, e non stiamo parlando di una connessione Wi-Fi, ma di qualcosa di molto più antico. Questi custodi del sapere cosmico parlano di Sirio B, la stella compagna così difficile da vedere che è come cercare un ago in un pagliaio galattico. E indovinate un po'? Hanno ragione. E se pensate che questo sia strano, aspettate di sentire Dei Nommo. Secondo i Dogon, questi esseri a metà uomo e a metà pesce sono i veri professori di astronomia, provenienti direttamente dal sistema di Sirio. Sì, avete capito bene. Extraterrestri anfibi che insegnano astronomia. E non finisce qui. I Dogon hanno una festa che è praticamente un rave astronomico, celebrato ogni 60 anni per segnare la fine di una rotazione di Sirio B. E in Egitto? Beh, Sirio è la superstar del calendario egizio, facendo la sua entrata trionfale proprio prima delle inondazioni del Nilo, come una diva prima del suo grande numero. Sirio è più di una stella. È un simbolo esoterico che ha fatto capolino nelle logge della massoneria e nei templi dell'antico Egitto. È il filo d'oro che collega scienziati, mistici e cercatori di verità attraverso i secoli. Ecco, amici dell'universo, siamo giunti alla fine di questa fantastica odissea spaziale. Se vi siete divertiti e avete scoperto qualcosa di nuovo, vi invito a schiacciare quel mi piace come se fosse un pulsante di lancio per un razzo. E non dimenticate di condividere questo video con tutti i vostri amici, perché, si sa, più siamo e più ci divertiamo nello spazio di CosmoTube Italia. Se non siete ancora iscritti, beh, è il momento di farlo. Cliccate su Iscriviti e accendete la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna delle nostre future missioni spaziali. Allora, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto spaziale a tutti e Alla prossima avventura con CosmoTube Italia!